Ho pagato Gabby Sono a posto, vabbè Ragazzi La Playstation 5 è arrivata E perciò ho deciso di fare un video dove Provo tre giochi a caso Su Playstation 5 E il gatto mio Proverai la Playstation 5 Tiè, tiè, dove mi? Lo so che la tecnologia Guardate come si gira Lo so che la tecnologia non fa per te Tu vuoi solo Manciare il pollo Come ho detto oggi Proveremo tre giochi a caso Su Playstation 5 Gabby, io ti ho pagato eh Mi è costato un patrimonio Sto video, ti prego Quindi ragazzi iscrivono al canale E lasciate un beca pollice al di su Se no vi si spacca il joystick Ok allora Andiamo col primo gioco Astro Playroom E' un tasto in un entertainment Dove non so com'è Oh che bello il robottino Ti chiamerò Eddie Eddie voglio bene No a parte di scherzi Il team Asobi Sembra il nome di un sushi Astro Playroom Premi un tasto Oh Ti sento tutta la diffiazione La sensazione che proverete Con questo gamepad Lo proverete solo quando La vostra nonna vi preparerà nella sala Non potete capire Ti presentiamo il controllo del tuo senso Vibrazione Puoi mettere Che cosa figa Oh ma c'è Questo gamepad è proprio un razzo Andiamo avanti Touchpad Pin No che è Pin V Oh ma c'è Oh no i piccoli E dove ti hanno messo Sono felici come un bambino a Natale Tra poco è Natale E questo è il mio regalo Il microfono Che schifo Ce l'ho sputata sopra No Tutta la mia saliva Sta uscendo da là Finito? Eccola qua La Playstation 5 E' enorme sta cosa ragazzi Praticamente più alta di me Cioè che io sono buffo Però Dai E' più alta di me Gatto Non scherzo Scherzo Devo fare così Oh E' sì Ciao E' sì Robotti Chiamerò Roberto Ok saliamo Ah Mi sa che io mi trovo dentro la Playstation Ok vai spacca Spacca Uno Spacca Dobbiamo accenderla Spacca Due Oh Che Che Questa è una simulazione Non è il mondo reale Non è il mondo reale Roberto Ciao No Non giocare alla PS Vita Cioè Oh Wow Devo spaccare Spaccato la bottiglia Ora devo tirare i fili Tirare i fili Ciao No ragazzi E' bellissimo E' bellissimo Ok Queste sono le componenti Roberto Guarda C'entra la PS1 Piazza della CPU Ciao CPU Ti chiamerò Capu E' CPU Ok che mi saluti Però basta seguirmi Non mi guardare Le chiappe Grazie Allora ragazzi Abbiamo un sacco di zone Abbiamo la zona dei server Ok la prima cosa Che voglio fare E' andare nella PlayStation 1 PlayStation Labo Ah i pezzi del puzzle Mappa Qua c'è la mappa Ragazzi Al centro C'abbiamo la CPU Poi c'abbiamo I vari livelli Delle varie Parti Della PlayStation Però l'ho sbloccato L'aria Ciao ragazzi Posso vedere la buona Guarda Puglia il sedere Sentite Io sono Il bulletto Qua Che volete fare Eh Eh Ragazzi Roberto E' un bullo E' un dolce carino Che saluta Sei un bullone Tu in realtà Oh Ora si Spacca ancora Mamma mia che fa Attivare Ok ho attivato Cos'è che devo fare Apri Un 50 di gaccia Come di gaccia The caccia Life Cos'è altro C'è da fare Ragazzi Ah ma quello Quello sta facendo Dance Dance Revolution Bravo Bravo Ehi Ehi Così Ehi tu Non stai facendo niente Lavora Ancora Lavora Ozziere Non fa bene Cosa gli ho fatto fare Ok ragazzi Ok ragazzi Direi di ritornare indietro E di andare Nelle ventole Fonti e raffreddamenti Tempesta di sabbott Cioè ragazzi hanno Lo scivolo Lo scivolo Si Che tuffo Ma io sono Roberto Non mi faccio male No Che figo Ci sono pure nemici Ah Gatti brutti siete Ma quello è Kratos Cioè che ci fai Kratos qua Ah no Kratos si è arrabbiato Oh 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 Ma che avete contro di me Ma piccoli bulletti Mi sa che ci dobbiamo salutare Sì ciao anche te Ok ragazzi allora Visto che il nostro premium è bellissimo Andiamo col prossimo gioco Spoiler Ho pagato sempre campi Cioè c'è bisogno che ve lo dica sempre Cioè ho il portafoglio vuoto Mi sono rimasti solo 5 euro 5 euro Benvenuti su Uomo ragno Morale di mia Però voglio fare la lotta con Rino 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 gattuso Oh Mi piace andare a pesca su un belga Aiuto Aiuto Ma perché stiamo correndo Un centro commerciale con Rino Rino frena Oh bambino Cosa ti eccita scusa Ma cos'è che ti eccita Aspetta non l'ho sentito Mamma mia Che botta che ha preso Mamma mia Che botta che ho fatto prendere No l'albero di Natale No E vabbè L'albero di Natale Rino Ma che ha sollevato Bello Pabbo Natale È una minaccia È una mente fragile Ciao Giorno Jameson Devo inserire la tua meme qua No 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 Fermi Ragazzi Ragazzi Ma che vogliamo dire Ma che gioco Io sono Spider-Man E quello C'è un bazooka No Non ti azzardare A tirarmi i bazooka In faccia Ecco Bene Allora 3 di 1 Ciao Schivata Ci sono Ci sono Senti La smettiamo Eh Dico Mi ha fatto Veramente Arrabbiare Oh Peter arrivo Eccomi Spider-Man Stai bene Attenzioni Quello che sta per accadere È la cosa più epica Del mondo Io E i miei sensi di ragno Non funzionano i miei sensi di ragno Sperino Cerotte Ti devo far per una camomilla Due camomille Questo Spider-Man è rotto Vorrei cambiarlo con uno Eh Questo può andare Allora Senti Ti so Il noceronte Che è contro Non fare arrabbiare Non fare arrabbiare Miles Stare Indietro Che putta Che ha preso Venti star Rinoceronte Ci vuole un cerotto Eh Rinoceronte Boom Ok Il pugno Venom Infligge danni E lo so che si chiama Venom Il potere Vai Non lo so Si chiama Pugno Venom E basta Aia Mi è fatto male Oh no ragazzi Ci sta caricando No no ragazzi Che mi tiri Sassi Boom Allora questa Io l'ho fatta proprio In un punto Scusa come fa l'uomo A andare contro questo Prenditi questo Per pure il sedere L'ho detto loro Una scolacciata Di più Aia Che hai chiamato tappetto Che hai chiamato tappetto Vecca di questo quadrito Dove non batte il sole Nel tuo corno Sono uno spirito Sono uno spirito libero Ma quando Ma dove Mi sta tirando le casse Di quelle di crash Ho fatto io crash L'ho proprio Crashato la faccia Window XP Error Sei vivo Più o meno Ho fatto il sedere Ma molto più sedere Grosso Al rhino E il corno Non so dove Gli è finito Prossimo gioco Fortnite Perché c'è Venom ragazzi Ci sono i nuovi poteri Venom Non quelli di Spiderman Altri poteri Venom Dov'è 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 Venom Dov'è Venom Ghost Rider Venom Venom Ok Allora Venom Venom con lo scudo Venom con lo scudo di Capitano America Contopare Guardate Venom con lo scudo E che c'è Cuuuupido Che c'è là Ragazzi ma che cosa c'ha Al posto del Eh Che cosa Direi che possiamo farci una partita In singolo Vai Ma sei l'urmude Ma che stai ballando Guarda come si balla Ti faccio vedere lo stile Venom Guarda lo stile Venom Guarda come muove il mio Pulpido Guarda Cos'è Cioè ma come erlino E' entrato questo gamepad Mi scusi Ok andiamo al pantano palpitante Di quale pulpito me lo sta dicendo Il problema di questo gamepad E' che il supporto dei millisecondi Vangono Perciò se io vengo bloccato Nel sparare Ecco ora è libero ragazzi Visto Come faccio Che ce l'ho Salve mi scusi Bello o ballo Bello o ballo Ma è per scappare A quanto pare si E' per scappare Basta Basta fammi sparare Fortnite è bello su gamepad Eeeh Ciao Ok ragazzi Devo dire che questo video Su tre giochi a caso Per playstation 5 Vi possa essere piaciuto E nulla Viscono al canale Se lo avete ancora fatto C'è un sacco di pollici Su qua Al vostro Non ci sia tutto E noi ci vediamo A un prossimo video Eeeh Ciao 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 Ciao